Un messaggio significativo che l'attrice e cantante Romina Power ha voluto condividere con il suo affezionato pubblico, scopriamo di cosa si tratta. Romina Power ha una famosa cantante e attrice americana. Ha nota per essere la figlia di due amate star di Hollywood, Tyron Power e Linda Christian. Dopo un'infanzia particolarmente complicata, avvenuta in Italia, dove ha iniziato la sua carriera di attrice in giovane età, infatti aveva solo 13 anni quando ha girato il suo primo film nel 1965. Sul set del «Musicarello», chiamato nel sole conosce il cantante Albano Carrisi, con il quale ha una lunga relazione, infatti la coppia convola a nozze nel luglio del 1970. I due sono molto amati per la loro collaborazione artistica, che ci ha fornito alcune delle migliori canzoni della musica italiana, presentate in ben sei edizioni del Festival di Sanremo. Inoltre, nel corso della loro relazione, hanno avuto quattro figli, Ilenia, Iari, Cristel e Romina. La relazione si è conclusa nel 1999 ma ufficialmente ha terminata con un decreto di divorzio formale nel luglio 2012. Romina Power lancia un messaggio al suo pubblico, consigliata da una assaggia bevanda a L'artista oltre ad essere particolarmente apprezzata e seguita nelle trasmissioni e agli eventi a cui prende parte ha anche molto attiva sui social, come Instagram, dove ama condividere con i suoi fan, pensieri, riflessioni e momenti della sua vita privata e professionale. In questa occasione ha pubblicato un particolare scatto fotografico che ritrae una tazza di tè. Sulla linguetta in carta della bustina ha riportata una frase che l'artista ha riproposto al suo affezionato pubblico. In descrizione alla immagine la cantante ha tradotto la scritta e dichiarato. Trattino maggiore Un bellissimo messaggio, molto attuale in riferimento al terribile momento che sta vivendo l'Ucraina. Un pensiero che l'artista ha manifestato anche nei giorni scorsi ripubblicando il numero utile della Croce Rossa e Unicef per le donazioni al popolo ucraino.